Il mare, onda dopo onda, ripulisce noi umani da tutti quegli inutili urpelli con i quali siamo soliti pavoneggiarci sulla terraferma. Il mare è un palcoscenico rivelatore del vero valore dell'uomo, sul quale ognuno di noi è costretto a muoversi senza maschera, sul quale titoli, potere, ricchezza non valgono nulla e dal quale si ergono uomini e donne degni di questo nome, mentre affondano inesorabilmente, omi nicchi e qua qua qua. La cultura del mare si può sintetizzare in due semplici parole, frugalità e solidarietà. E frugalità e solidarietà saranno se ascolteremo la voce del mare, la salvezza del mondo. Patrizia Maiorca Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Con la cultura si può. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.